Gli agenti immobiliari lamentano delle criticità rispetto alla riforma, di che cosa si tratta? In effetti il vero problema è proprio l'estromissione dell'agente immobiliare dalla filiera del credito, infatti con questa riforma gli agenti immobiliari non possono più segnalare mutui proprio per effetto dell'abrogazione del DPR 287 del 2000 che consentiva questa attività ancorché non fossero mediatori del credito. Ecco questo secondo noi è stato un errore del legislatore pur giudicando sostanzialmente la riforma buona perché andava sicuramente normato il settore, però l'estromissione degli agenti immobiliari sicuramente genererà un gettito inferiore, creerà sicuramente meno domanda perché per il consumatore, per l'utente, per il cliente dell'agente immobiliare il momento in cui sta valutando se acquistare o no, ecco avere in quel momento a disposizione un consulente, qualcuno che gli spiega qual è il mutuo che può sostenere, qual è il mutuo che fa per lui, sicuramente è un momento importante, quindi rimandarlo a un momento successivo, ecco la valutazione del mutuo da prendere, ecco sicuramente non è stata una scelta giusta da parte del legislatore. Quali modifiche proponete? Noi avevamo proposto, anzi la commissione finanze del senato ci aveva dato ragione, avevamo proposto che l'agente immobiliare fosse abilitato a segnalare il mediatore creditizio che poi avrebbe svolto tutta l'attività secondo la nuova normativa, quindi in temperanza non la normativa, ma che questa segnalazione fosse regolamentata, perché oggi se no si dà lo spazio ad una deregolamentazione della segnalazione, perché ci saranno modi che vanno anche contro la razio della legge che saranno utilizzati per segnalare mutui. L'esclusione degli agenti immobiliari va a vantaggio dei consumatori? No, noi crediamo che questo sia a svantaggio del consumatore, perché se un settore viene regolamentato, così come è stato regolamentato, secondo noi andava regolamentato dall'inizio alla fine, quindi dalla nascita della esigenza del prodotto finanziario fino ad arrivare alla conclusione, quindi all'approdo in banca che poi avrebbe finanziato e stipulato l'atto di mutuo.